Sia che parliamo di un amore per finito, sia che parliamo di un presidente del Consiglio sconsiderato, sia che parliamo di una problematica sociale, in ogni caso all'interno di una canzone quello che noi possiamo fare è sollevare una questione e accendere una fiammella in un luogo che abbiamo la sensazione sia in penombra, perché se dico chiudi gli occhi e immagina una gioia, tu hai una reazione X, chiudi gli occhi e immagina una gioia, se lo faccio chiudi gli occhi e immagina una gioia, siamo in un territorio, se faccio tutto un bello puntato, stoppato, chiudi gli occhi e immagina una gioia, te l'ho cantato già in una maniera che comunque non è più questo sta col gin tonic in mano, si avvicina, si appoggia, si appoggia, ma chiudi gli occhi e immagina una gioia, ma invece, no? Chiudi gli occhi ed immagina una gioia, molto probabilmente penseresti a una partenza Grazie a tutti! Grazie a tutti!